Adesso si, marcio sul b, Stefano che si accinge la freno a mano E' acceso? Si è acceso. E' una delle particolarità dei motori elettrici che non si sente niente. Ma si capisce di dire. Soprattutto la gente non si sente. Questa è il mio cinematografico. Ecco infatti qua l'idea che parte. Ci sono anche i suicidi. L'ha fatto apposta? Non si sente nulla. Questa è un'autovettura, non è un quadrucillo? No, non si sente nulla. Guarda, non è la mia. Neanche la mia. Qui a sinistra? Ok, accostati qui. Cambiamo guida. Chi è che viene a provarla? Vai Salvatore. Vai. È un'esperienza abbastanza particolare. Veramente. Vediamo che combina Salvatore. Alla destra? Si, bravissimo. Ora anche te, sparala tutti. E' un po' lento eh. Ma non è necessariamente lenta con una pezzata. Si sa che il peso è grosso. E' un po' lento. Oh, il rumore che sentite non è della macchina. Ma è del... Un gruppo eletrogeno. Un gruppo eletrogeno. Un gruppo eletrogeno. Ho detto? Prego, si. Infatti ora il rumore non si sente più. E' fuori eh. Ci ha detto. Grazie. Questa è bella eh. Però non è giusto. Questo è ventino più. Qua, qua, qua. Qui, qui, qui. Bravissimo. Allora la macchina frena. Va bene. Silenziosa. 150 km di autonomia. Con l'uso di tutti i comfort. Il climatizzatore e il radio. La ricarica completa si fa in sei ore dalla 2.20. La ricarica parziale veloce in 40 minuti. L'ottanta per cento con la 3.80. Perdonami. Il climatizzatore quindi fa sia freddo che caldo. Assolutamente. Fa molto freddo. Funceva benissimo. Grazie. E' come se fosse uno supply. Senti il costo. Il costo a privati sono 36.000 euro. Abbiamo un... Possiamo offrire dei pacchetti con Citroen finanziari direttamente. Con noleggio a lungo termine, renting e full leasing. Compresi di manutenzione anche eh. Ora vuoi accostarti tra queste due euro. Senti la metto così. Bene. Quindi che è dati. Lì dentro riesce. Bravissimo. Grazie. R e andiamo in qua. Grazie. 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 Grazie.